Da qui è iniziata l'invasione delle forze armate ucraine in Russia. La città di Suza, nella regione di Kursk, ha preso il primo colpo. Un combattente con il nome in codice Joker ci porta al quartier generale delle forze speciali, Akhmat. Questo non è il primo posto di comando che visito in questa direzione, ma se confronto l'intensità dei combattimenti e le comunicazioni, la maggior parte delle altre aree del fronte impallidiscono. Le voci alla radio si sovrappongono. Gli sguardi sono fissi sugli schermi che mostrano filmati dai droni. I combattenti hanno appena richiesto il supporto di fuoco di armi molto potenti. Al comando regna entusiasmo. Molti video del conflitto non sono trasmessi in 4K, ma i droni FPV, pur senza un'alta qualità d'immagine, offrono registrazioni altrettanto impressionanti. Secondo Aïd, uno dei comandanti delle forze speciali di Akhmat, non c'è stato un periodo più teso in questo conflitto. La situazione è molto tesa perché il nemico, fin dai primi giorni del nostro arrivo, cerca di sviluppare il successo della sua offensiva. Alla fine, il tentativo di successo è fallito. Decine di mezzi corazzati e carri armati come Bradley e Stryker sono distrutti. E diverse migliaia di soldati ucraini hanno trovato la loro pace sul suolo di Kursk. Non a caso questo viene chiamato l'arco di Kursk, poiché una tale quantità di mezzi nella controffensiva del nemico non si era mai vista durante l'intera operazione speciale. I mezzi vengono distrutti e il nemico non riesce a portare riserve. Dai radiointercettamenti l'umore è depresso. Non riescono neanche a evacuare. Lavoriamo per la distruzione totale. L'Ucraina è ancora lontana dal cessare i tentativi di spezzare lo spirito della Russia. Ma Aydou e i suoi combattenti amano le sfide. Igor Zhdanov, RT, regione di Kursk. Grazie a tutti.